Fai un attimo un video. E' un video, è un video. Perché non riesci? Sono più bella io. Andiamo, andiamo, guarda, dà, me lo porto a casa, dai, ti prego. Come si vuole, dove è? Sì, sì. Buon viaggio. Si porta a casa. Ah, ora posso stare. Ti metto il cotto d'acqua, il loro mangiare. Sì, è bellissimo. Complimenti. Non vuole stare bene. Non vuole stare bene. Non vuole stare bene. Ciao, man. Bello, mi piace. Ciao. Ciao, è stato un piacere. Ciao. Non sei carino. Anche il nome, come ti chiami? Nicola Toby. Nicola Toby? Hai anche la coda? Ma il tuo vero nome qual è? Nicola Toby. Sì, è bellissimo, Nicola Toby, ti cercherò su pezzi. Vai, Nicola Toby, ci sei? Nicola Toby. Nicola Toby. Fammi un altro rugito, ti prego. Dai, ti sussico, per me. Perché non reagisce? È inquietante, sì. Nicola Toby, lo cerco. Ciao, ciao, grazie. Complimenti, ciao. Ciao.